La risposta alla terza domanda, per guadagnare altri 2 dollari, nel frattempo sono già arrivati altri mezzo IOS, quindi altri 2 dollari, ne abbiamo fatti 4, vediamo di guadagnarne 6. Che cos'è IOS Token? È una criptovaluta che utilizza la blockchain IOS, è veloce e gratuita da trasferire, gratuita, senza commissioni, e utilizzata alla governance consente agli utenti e agli sviluppatori di generare risorse di cui hanno bisogno per eseguire applicazioni su IOS. Vabbè, facciamo il quiz. Qual è la feature, quindi la caratteristica principale di IOS? È preinstallato su un ultimo pile phone? No. 3 minuti transfer time? No. High gas rate? No. Fast and free transfers? È questo qua, cioè trasferimenti gratuiti e veloci. No crypto wallet required? Non è vero perché c'è bisogno di un wallet, di un portfoglio crypto. Quindi la risposta esatta è questa. Qual è la principale caratteristica di IOS? È fast, free, run, transfers. Se non te lo trovi nello stesso ordine, cerca questa risposta. Clicca avanti, incrociamo le dita, attenzione, e altri 2 dollari guadagnati. Andiamo avanti con la quarta risposta per guadagnare 8 dollari. Se ti va, 5 stelle, condividi questo video e questo corso con i tuoi amici per guadagnare... Qui siamo arrivati quasi a 200 euro senza spendere niente in crypto. Ma se iniziano da zero i tuoi amici, condividi con loro prima questo corso, dove imparano qui da zero, e poi quest'altro. E se ti va, dà un'occhiata anche a Amazon Power per ricevere i prodotti gratis in 30 minuti. Incredibile. Andiamo avanti col quarto video che dura circa 3 minuti. Te li risparmio e ti dirò nel prossimo video direttamente la risposta per altri 2 dollari gratis. Non andare via e ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Alcomic Investor 69